Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video e guardando un po' i video ragazzi mi sono accorto che è un po' di tempo che non facevo video su pattern armonici e quindi oggi mi sono detto andiamo un po' a vedere che cosa ci propone il mercato perché i pattern armonici fanno parte del mio trading plan sono una delle strategie, una delle tante strategie che utilizzo, sapete è una strategia che funziona benissimo in momenti di mercati i movimenti di mercati non strutturati quindi risponde a determinati criteri, a criteri precisi e andiamo a vedere un po' che sta succedendo sul mercato partiamo dal mercato del forex, siamo qui su euro dollaro, lo vedete qua nella mio grafico allora euro dollaro che succede? Vedete che l'euro dollaro si è mosso all'interno di questo canale per molto tempo poi a un certo punto qui in particolare ha rotto la struttura, qui è andato ad insistere, ha formato guardate questo piccolo doppio minimo questo ritracciamento sul doppio minimo che si è appoggiato qui e poi è di nuovo sceso e si è appoggiato adesso su questa struttura e sta reagendo abbiamo già discusso di euro dollaro dal punto di vista tecnico nei giorni precedenti e qua voglio andare a passare, passiamo un attimo di time frame, voglio andare a parlare meglio di euro dollaro ma dal punto di vista dei pattern armonici allora andiamo un po' indietro nel tempo e così andiamo a vedere meglio che cosa è effettivamente successo e che cosa si è formato perché sicuramente in questa fase di movimento non troppo strutturato ma nemmeno così destrutturato sono sicuro che qualcosa ci sarà che può darci soddisfazioni allora andiamo a prendere per esempio, e qui mi serve Fibonacci come al solito è Fibonacci lo strumento giusto andiamoci a prendere questo punto qui, quindi voglio un attimo vedere da qui a qui sotto ok ci siamo, voglio vedere però anche da qui a qui ok ci siamo anche su questi, qui per esempio c'è un bel cipher in formazione non si è ancora formato, quindi lo andremo poi a vedere da XA a B e poi ancora da B, C, eccolo qui guardate si poggia esattamente sul livello 127.2 vedete che casca esattamente su questa struttura 1,13 e 70, quindi da qui a qui eccolo qui un po' più in basso ok questo è il nostro cipher disegnato, è un cipher in formazione vedete la gamba dovrà ancora camminare parecchio prima di riuscire ad arrivare al completamento ma intanto ne teniamo traccia guardando qui mi sembra che ci possa essere anche un altro pattern armonico che vi dico la verità io non trado mai perché è il butterfly e l'ho spiegato nei video quindi adesso non starò a ridirvi perché ma credo sia andato a eccolo qui scusate ho sbagliato a tracciarlo quindi da XA e magari lo facciamo di un altro colore ma tanto dopo lo cancello perché di nuovo non è di mio interesse da qui a qui e si si è formato proprio con questo ed andalo già in profitto questo è un butterfly ragazzi chi mi conosce sa già perché non trado il butterfly perché il butterfly è l'unico pattern armonico che cade sotto il cui completamento cade sotto la gamba di impulse leg la cosiddetta gamba di impulso ed è quindi molto difficile posizionare con delle regole meccaniche lo stop loss fatto sta che questo butterfly rialzista è andato in profitto l'operazione è stata un'operazione molto importante ma non fa parte del mio trading plan quindi aspettiamo invece il completamento di questo cypher che c'era poi che altro c'era che avevo visto mi sembra su USD Yen USD Yen sempre sul 4 ore allora fatemi togliere qua Fibonacci eccolo qui da qui probabilmente sì allora fatemi fare un po' di zoom perché è più recente era qualcosa che si era formato ed era fatemi di nuovo disegnare Fibonacci da qui da qui a qui esatto perfetto allora guardate ve lo faccio vedere XA AB e ancora B C questo invece è appena è stato completato ed è già partito quindi è tardi adesso per pensare di di entrare ma qui si è completato questo bet pattern vedete completato qua e il prezzo è rialzista anche questo il prezzo è subito ripartito qui l'entrata ragazzi attualmente almeno per le mie regole è tardi perché l'entrata era qui con uno stop loss poi dipende dalle vostre regole e un take profit che casca intorno a questi valori interessante il rapporto rischio rendimento come vedete 1 quasi a 2 1,9 quindi molto interessante però questo l'abbiamo perso però vedete quante opportunità il mercato ci mette a disposizione poi avevo sicuramente visto qualcosa su Audi USD che era di 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 veloce implementazione lo vedete lo vedete meglio sicuramente anche questo si è appena formato lo vedete meglio sul time frame orario ma io ve lo faccio vedere qua sul 4 ore perché fatemi guardare un secondo da qui a questo si esatto guardate è molto piccolino ma anche questo questo lo trovate meglio sull'orario che tra l'altro è un time frame che io non prendo in considerazione almeno per le mie regole l'H1 quindi per questo ve lo disegno sull'H4 e guardate qua si è formato proprio su questa candela qui è un di nuovo ragazzi è un cipher esatto esattamente qua anche questo già è partito quindi vedete qui si è formato e anche qui è rialzista e credo sia arrivato anche vicino al già vicino al profitto probabilmente il profitto sta qua quindi anche quest'altra opportunità su Audi usd voglio farvi vedere finiamo con con nd usd quindi voglio farvi vedere rimanere sempre sul dollaro n 0 usd il dollaro del resto in questo momento si sta veramente comportando in maniera particolare e quindi secondo me decreta molti movimenti particolari in questo momento allora guardate qua fatemi di nuovo mettere fibonacci quindi da questo impulso a questo allora qui abbiamo informazione questo pattern qui guardate da qui a qui e poi ancora da qui a qui con il completamento fatemi togliere eccolo qui vedete che si è appena conclusa questa gamba dobbiamo aspettare il completamento di quest'altra gamba ma mi sembra di vederne fatemi vedere un secondo c'è un altro pattern piccolino anche questa volta si vedrà meglio sul su time frame orario e fatemi cambiare anche subito colore facciamolo celestino qui dentro guardate questo è ribassista da qui a qui e ancora quindi vedete qua ho due comportamenti diversi nel senso un comportamento in cui il prezzo può andare a completare questo pattern ribassista o il prezzo in cui può andare a completare questo più piccolino pattern in questo caso rialzista e il che non è detto che a volte succede ragazzi ed è veramente molto bello da vedere succede che il prezzo scende completa un pattern va a prendere il take profit va a completare il secondo il secondo entra e si andrà a prendere il take profit succedono anche queste cose nel trading volevo concludere con l'oro perché anche l'oro ha appena ricordo che ha appena formato andiamo sul usd sul cfd dell'oro perché mi ricordo che ha da poco formato allora da qui a qui un piccolo cipher fatemi mettere fibonacci x a esatto a b ok ci sta l'ha praticamente appena formato chiuso x a no scusate era x a a b ancora b c c c e 70 eccolo qua si si è formato questo piccolo cipher rialzista ovviamente staremo a vedere che cosa succederà ragazzi come al solito questi non sono consigli finanziari volevo semplicemente fare con voi un video sui pattern armonici e fibonacci trading perché era un po' che non lo facevamo insieme come al solito farvi vedere ragazzi questi sono solo strumenti che il trader ha a disposizione non sono bacchette magiche non prevedono il futuro con questi strumenti che usiamo poi ci dobbiamo creare sopra delle strategie con delle regole d'entrata meccaniche precise dove si entra dove si posiziona lo stop loss e dove il take profit e inserirle in un trading plan così si fa trading e così si fa trading in maniera profittevole non è che i pattern armonici o fibonacci trading siano la gallina dalle uovo d'oro per il trading spero che ormai a questo punto del canale sono 3-4 anni che parliamo tutti i giorni di trading lo abbiate capito ragazzi un like se questi video vi piacciono iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati noi ci vediamo prestissimo buon trading a tutti ciao